con le pippe si fanno solo con piacere se non c'è il piacere senza pippe ci manca il palato col palato la prima cosa la pasta se non c'è il palato dipende di quando usi la pippa allora non è più la pippa diventa un fellato non complicare la situazione comunque sempre di palato stiamo parlando sia di pasta che di pippe sempre palato è quindi la pippa la pasta col peperon il pancake con la p pancake il pancake con la p c'è anche il pancake un pancake rotondo ci crediamo e dopo e dopo e dopo e dopo le pippe di e dopo le pippe di Carla cambiamo argomento passiamo la parola a Loredana prima Loredana Loredana 1 non so che dire unibissima per poche persone per poche porche pure sempre una cosa da mangiare ma da mangiare piccoli pippini piccoli pippini scusa suggerisci ma sempre cose da mangiare sempre una cosa da mangiare piacere di mangiare piacere palato e mangiare qualsiasi cosa 3 p ma lei chiedeva sempre a livello culinario può spaziare posso spaziare scusa con la p c'è quella parola scusami con la p no scusa suggerisci il mio braccio sinistro pippette grazie a tutti 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 grazie a tutti